Se mi sentite, se siete pronti, sembra di sì. Ditemi quando posso partire. Buongiorno a tutti, si sono conclusi da poco i lavori del Consiglio europeo, è un Consiglio europeo che possiamo definire storico perché ieri è stato raggiunto l'accordo sul bilancio pluriennale e sul recovery sul Next Generation EU, quindi arriveranno, questo consentirà di sbloccare nei prossimi giorni l'avvio delle ratifiche nazionali, un altro passo avanti per rendere concreto il programma di risorse straordinarie di cui il principale paese beneficiario sarà l'Italia, lo ricordo, 209 miliardi più i miliardi del bilancio. Abbiamo raggiunto questo risultato, mi piace sottolinearlo, senza rinunciare a nessuno dei nostri principi, quindi abbiamo ribadito il principio dello Stato di diritto, non abbiamo toccato il regolamento sulla condizionalità del bilancio legata allo Stato di diritto e questo è il primo punto. Poi abbiamo anche avuto una lunga, profonda, ampia discussione sul clima ma anche qui abbiamo raggiunto l'accordo, per buona parte della nota abbiamo lavorato a questo, la ragione per cui abbiamo finito molto tardi questa mattina e qui c'è un obiettivo fondamentale che abbiamo raggiunto. L'impegno cioè a ridurre del 55% rispetto al 1990 le emissioni per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. È un obiettivo a cui l'Italia attiene molto perché l'Italia è tra i paesi di testa, tra i paesi virtuosi in questo percorso e si tratta anche di un importante passo se lo colleghiamo alla presidenza italiana del G20 appena iniziata e se lo colleghiamo anche alla responsabilità insieme al Regno Unito per questo 2021 di gestire l'organizzazione della COP26 che è l'evento più importante al mondo delle Nazioni Unite in materia di cambiamenti climatici e di ambiente. Abbiamo anche trattato il tema del Covid, della pandemia attuale. Abbiamo ribadito la necessità di rafforzare il coordinamento tra i vari paesi europei soprattutto in vista delle prossime festività per evitare il rischio di una terza ondata. Sapete che l'Italia ha già adottato, varato un sistema di misure aggiuntive proprio specificamente operative nel periodo delle festività e delle massime occasioni di socialità. Abbiamo anche sottolineato l'importanza di un approccio coordinato per quanto riguarda l'inizio della distribuzione dei vaccini a partire da gennaio e le campagne di comunicazione. Se ci riusciremo, ci siamo detti anche, la idea ha trovato parere anche favorevole da parte di molti e della Commissione, se ci riusciremo cercheremo anche di organizzare il vaccino dei, cioè una giornata in cui tutti poter dare segno anche simbolicamente e operativamente che l'Europa è unita e l'Europa parte insieme. Ancora scenari internazionali, in particolare abbiamo dedicato attenzione alla Turchia, abbiamo negoziato anche qui duramente per trovare una soluzione equilibrata. È chiaro che dovevamo dare un segnale e l'abbiamo dato di insoddisfazione ad Ancara, tant'è che abbiamo precostituito anche l'adozione di un regime sanzionatorio, la listing di alcuni individui, perché evidentemente ci sono delle iniziative unilaterali provocatorie che non possiamo accettare e che riguardano la Unione Europea collettivamente intesa, non possiamo distinguere tra singoli paesi dell'Unione Europea, ma abbiamo lasciato anche aperta alla Turchia l'agenda positiva e tutti i canali di dialogo. Noi non lavoriamo per delle spirali viziose, non lavoriamo per l'escalation del confronto, ma per la de-escalation. E ancora poi c'è stato da ultimo lo Eurosummit e qui siete in Italia ben informati perché c'è stato anche un passaggio parlamentare prima di partire dedicato per la gran parte anche alla riforma del meccanismo europeo di stabilità del MES. Abbiamo quindi concordato quello che il lavoro comune è anche su unione bancaria e unione dei capitali da fare, dovremo lavorare intensamente su questo fronte secondo delle indicazioni che l'Italia ha ben chiare. Vorrei però approfittarne prima di lasciarvi alle domande per ricordare, oggi ricorre l'anniversario dell'attentato, l'11 dicembre 2018 qui a Strasburgo un giovane italiano, una espressione dell'Italia migliore, Antonio Megalizzi, giornalista, appassionato anche conduttore radiofonico, innamorato del progetto europeo, fu colpito e qualche giorno dopo morì. Ecco in una giornata importante per l'Italia perché sicuramente l'approvazione del bilancio, l'approvazione del programma Next Generation EU è un programma che ci fa ben sperare, offre una sfida di grande responsabilità ma anche dalle enormi potenzialità. Questo programma è stato intitolato Next Generation quindi è dedicato proprio a giovani come lui o ancora più giovani, anche se lui non c'è più e volevo ricordarlo. Prego le domande. Allora l'abbiamo fatto in ordine di prenotazione quindi iniziamo con un'agenzia, Lorenzo Consoli, prego. Mi sentite da Bruxelles? Non si sente. Mi sentite? Adesso sì, prego. Volevo fare una domanda precisa al Presidente Conte perché adesso arriveranno finalmente i soldi del Next Generation EU e anche quelli relativi al Just Transition Fund che è molto importante per l'Italia, abbiamo quasi un miliardo, 937 milioni destinati all'Italia e proprio l'altro giorno il Parlamento Europeo insieme al Consiglio ha trovato un accordo sul testo finale di questo strumento in cui si dice chiaramente che non verrà usato per finanziare fonti fossili. Allora siccome dovrebbe essere usato in Italia in particolare per Taranto, per l'ILVA di Taranto, c'è stato un accordo proprio in queste ore su questo, volevo sapere se volete accedere ai fondi del Just Transition Fund cosa farete con Taranto? Perché nell'accordo che è stato fatto si prevede che continui a essere usato il carbone per buona parte della produzione che anzi verrà aumentata e quindi non c'è idrogeno. La domanda è ci sarà l'idrogeno a Taranto? Come useremo il Just Transition Fund visto che non possiamo usarlo per finanziare fonti fossili? Grazie. Assolutamente sì, assolutamente sì. A Taranto ci sarà l'idrogeno. A Taranto realizzeremo, come ci siamo ripromessi sin dall'inizio, il progetto più avanzato, speriamo, e comunque più serio e più solido di transizione energetica. Ovviamente non lo si fa dall'oggi al domani, ma come, adesso poi non so se, perché sono stato davvero impegnato in queste ore, come sapete durante il Consiglio europeo non ci si può distrarre, ma non so se è stato già annunciato il programma dell'accordo, per buona parte già prevede che in quello stabilimento si abbandoneranno i fossili, le fonti fossili. Quindi iniziamo già in parte un progetto di riconversione e di transizione. In prospettiva, man mano che la tecnologia ce lo consentirà, porteremo, diventerà tutto verde. Occorrerà ovviamente farlo nell'arco di un arco temporale che è stato già considerato nell'ambito del business plan, degli accordi che sono stati fatti, il nostro investimento è già prioriato in questa prospettiva. Quindi accederemo, confidiamo assolutamente di accedere anche a questi fondi. Grazie. Angela Mauro dell'Huffington Post. Prego Angela. Sì, grazie. Buongiorno Presidente. Io le volevo chiedere se a margine degli incontri, a margine della discussione in Consiglio, nei colloqui informali con gli altri leader, le hanno chiesto conto delle fibrillazioni in Italia in maggioranza, visto che noi abbiamo la responsabilità di investire la parte più cospicua del recovery fund. Se ha ricevuto rassicurazioni sulle ratifiche nazionali del recovery fund, visto che per lo strumento della commissione SURE ci sono voluti ben quattro mesi, siamo già a metà dicembre, se il recovery deve iniziare il primo gennaio e poi se pensa di essere lei da Palazzo Chigi l'anno prossimo a gestire questo impegno molto pesante per l'Italia. Grazie. Guardi, per quanto riguarda le ratifiche nazionali, il clima è molto buono perché avendo superato anche questi veti da ultimo che erano l'ostacolo rimasto sul cammino della Polonia e dell'Ungheria, il clima si è assolutamente rasserenato anche da parte di altri paesi che notoriamente sono stati più diffidenti rispetto a questo nuovo programma di finanziamento attraverso il debito Comune europeo non c'è stato nessun segnale di nervosismo o di particolare perplessità, quindi non ci aspettiamo assolutamente un cammino irto o insidioso per quanto riguarda le ratifiche nazionali. Ovviamente ci vorrà un po' di tempo, ragionevolmente sarà difficile che potremo con l'approvazione delle ratifiche partire prima ovviamente di febbraio, quindi febbraio è il nostro obiettivo e questo ovviamente però ci fa capire che non dovremo come dire rallentare la concentrazione sul fronte interno per continuare a lavorare all'elaborazione del piano. Per quanto riguarda l'anno prossimo se sarò io e assolutamente io ho la piena responsabilità consapevolezza di questo incarico, anche la consapevolezza è piena, come dire, sono pienamente dotto del fatto che andrò avanti con la fiducia di ogni singola forza di maggioranza e di tutte le forze di maggioranza collettivamente, quindi sicuramente se lei si riferisce a qualche fibrillazione come qualcuno ha chiamato di voi di questi giorni, ci confronteremo nelle prossime giorni con le singole forze politiche e poi collettivamente cercheremo di capire bene queste notazioni critiche che fondamento hanno, che istanze rappresentano, ce lo diremo molto francamente perché il Paese merita delle risposte, merita chiarezza di posizione da parte di tutti, di tutti i soggetti che hanno una responsabilità pubblica in questo momento, quindi a maggior ragione da parte del governo, delle forze di maggioranza, è un'occasione storica per noi, siamo chiamati a spendere 209 miliardi, una grande investitura di fiducia ma anche di responsabilità da parte dell'Europa, è una grande investitura che abbiamo assunto e assumiamo noi stessi nei confronti dei nostri figli. Se voi considerate negli ultimi 28 anni in Italia siamo riusciti a spendere le risorse europee non più della metà, qualche volta il 40% addirittura, per non parlare dei fondi di coesione, quindi dobbiamo fare uno sforzo incredibile a tutti i livelli, innanzitutto come disponibilità, concentrazione, capacità proprio di lavorare per questo obiettivo e poi dobbiamo coinvolgere tutto alla macchina amministrativa della comunità nazionale a tutti i livelli, tutti saranno protagonisti di questo piano nazionale e dobbiamo farcela. Presidente, manca la parte se altri leader le hanno chiesto conto della situazione politica in Italia? No, si sono complimentati per il passaggio parlamentare, sinceramente, qualcuno ha seguito il dibattito e l'espressione di forza della maggioranza di coesione è stata molto apprezzata e questo sicuramente ci ha rinforzato, non solo me ma come Italia, ma nessuno mi ha chiesto dettagli su fibrillazioni interne. ADN Cronos, Tommaso Gallavotti, prego. Buongiorno Presidente, due domande rapidissime se posso. La prima sulla governance del Piano nazionale di ripresa di resilienza si è letto molto sui giornali in questi giorni, volevo capire, si è detto anche che la creazione di una task force piramidale è l'espressione di una sfiducia del governo nell'alta burocrazia italiana e che la burocrazia di Bruxelles non si fiderebbe dell'alta burocrazia italiana, volevo capire se questo è vero. La seconda cosa è sul fronte interno, se posso. Si leggono molte cose, Unicredit è andato Piercarlo Paduan, su MPS ci sono parecchi movimenti, ILVA, l'Italia. Sembra che la mano pubblica nell'economia stia tornando abbastanza forte, non è necessariamente una cosa negativa. Mi perdono la domanda, ma viene però sospetto che ci stiate prendendo gusto. È vero oppure è un sospetto infondato? Grazie. Allora, prima domanda per quanto riguarda la governance. Beh, ci confronteremo anche su questo perché evidentemente dobbiamo assicurare lo strumento e il veicolo che ci consenta di poter monitorare, pensate, migliaia e migliaia di cantieri che nasceranno in Italia e tenete conto se già la sfida storica in 28 anni l'abbiamo persa perché vi ho già detto che abbiamo perso circa la metà dei fondi europei. Questa volta la sfida è ancora raddoppiata, triplicata, quintuplicata perché noi abbiamo 209 miliardi da spendere in sostanza tra il 2023 e il 2026 perché vanno impegnati entro il 2023 e spesi nel 2026. Quindi veramente è un obiettivo per noi molto sfidante, molto complicato, molto complesso. Quindi benvengano tutte le proposte per migliorare la capacità amministrativa dello Stato per cercare di offrire in modo costruttivo delle soluzioni. Quella che abbiamo pensato come proposta che come sapete va ancora discussa perché poi il Consiglio dei Ministri si è interrotto purtroppo per la positività della Ministra Lamorgese. Continueremo a ragionare, a confrontarci con le forze di maggioranza e ovviamente con i Ministri primariamente. Quello che sicuramente va chiarito è che questa struttura non vuole ma direi proprio non può esautorare la responsabilità di tutti i soggetti attuatori dei singoli progetti che saranno amministrazioni centrali e periferiche. Nessuno può esautorare il loro compito in questi miliardi di cantieri. Noi abbiamo però bisogno sicuramente di una cabina di monitoraggio. Una cabina di monitoraggio e poi una clausola di salvaguardia che consente di intervenire laddove l'amministrazione centrale non vuole intervenire per assicurare in caso di ritardo, difficoltà esecutive la realizzazione del progetto. Altrimenti perderemmo soldi. Questo non lo vogliamo, non lo vogliono i nostri cittadini che stanno soffrendo, non lo vuole nessuno. Quindi cercheremo con tutto il confronto ampio possibile di introdurre uno strumento realmente utile, efficace e che abbia anche il controllo politico sia sottoposto a controllo politico e democratico perché già nella proposta originaria, ripeto che adesso discuteremo, era prevista una informativa periodica al Parlamento, al Ciae, quindi al Consiglio dei Ministri, un confronto continuo con i ministri competenti. Quindi ci sarà anche il confronto politico, il confronto democratico, ci sarà tutto. Scusate, la mano pubblica, dimenticavo l'altra domanda, non è che ci stanno prendendo gusto all'intervento dello Stato e dell'economia, ma tutti i Paesi con una pandemia del genere, con una recessione così pesante, una delle più significative, forse la più significativa dal dopoguerra ad oggi, sono costretti anche a programmare degli investimenti e quindi anche l'intervento della mano pubblica, come l'ha chiamata lei, in alcuni soprattutto asset strategici. Noi non possiamo permetterci di perdere questi asset, dobbiamo intervenire per assicurare, già lo abbiamo fatto, liquidità alle imprese, capitalizzazione, rafforzamento, consolidamento degli organismi produttivi e quindi del nostro tessuto, pensiamo alle PMI, in questo momento di particolare difficoltà. È chiaro poi che ci sono degli interventi, alcuni lei li ha citati, interventi migliorati laddove lo Stato deve cercare di tutelare e proteggere asset definiti strategici. Quindi il Tg1 Roberto Chinzari, prego. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Sono in Italia con due passi in avanti sulle ricordi e sulle clima, dall'altra parte però stride il fatto che proprio in Italia c'è chi si parla anche apertamente di crisi come Matteo Renzi, tanto che Bonafede ha parlato di una minaccia irrispettosa mentre è in corso il Consiglio Europeo. Zingaretti ha detto che nessuna maccia è indietro ma ci vuole il confronto. Ecco, come gestire questa situazione? Basta un CDM, un vertice dei leader di maggioranza o serve qualcosa altro? Siamo già oltre. E poi invece una cosa che cambia completamente tema, sono gli spostamenti tra comuni in vista del Natale, una cosa che gli italiani interessa e a che punto siamo. Guardi, per quanto riguarda la situazione interna, evidentemente ci sono delle stanze critiche, anche molto critiche e quindi dobbiamo capire cosa nascondono, quali obiettivi, dobbiamo confrontarci. Lo faremo, l'ho già detto, nelle prossime ore, prossimi giorni con la singola forza di maggioranza voglio incontrare la delegazione delle singole forze di maggioranza e poi collegialmente. Perché è chiaro che per andare avanti di fronte alle sfide che abbiamo dobbiamo essere chiari, trasparenti con il Paese. I cittadini soffrono, abbiamo una seconda ondata che stiamo cercando di contenere con tutti gli sforzi possibili dei cittadini. Stiamo cercando di imporre delle misure di contenimento anche addirittura nelle festività natalizie per prevenire la terza ondata. È in arrivo questo programma che è la più complessa sfida dal punto di vista economico, sociale, che il Paese abbia mai vissuto, 209 miliardi che si aggiungono a quelli della legge di bilancio e fondi ordinari strutturali europei. È chiaro che dobbiamo dimostrare di essere all'altezza, ma dobbiamo dimostrarlo già di esserlo nelle convinzioni, nei toni, nel coordinamento, nella volontà di poter mettere da parte e chiarire queste istanze critiche, affrontarle, guardarci per bene tra di noi e poi mirare a questo obiettivo. Queste priorità per il Paese. E per farlo quindi non ci dobbiamo nascondere, perché c'è già una collegialità, ma evidentemente non basta, perché ricordo ancora che questo recovery plan su cui stiamo lavorando, è appena iniziata adesso la discussione sul documento di aggiornamento in Consiglio dei Ministri, si è interrotta ma proseguirà, è aperto a qualsiasi confronto. Noi siamo il Paese europeo che sta parlamentarizzando il piano di recovery plan nazionale più di tutti. Abbiamo già portato le linee guida in Parlamento, abbiamo acquisito note di indirizzo, porteremo questo documento una volta che l'avremo ampiamente discusso all'interno del Governo e della maggioranza, lo porteremo in Parlamento per acquisire ulteriori note di indirizzo, quindi ogni passaggio lo parlamentarizziamo e alla fine il piano definitivo dovrà essere approvato al Parlamento, i singoli progetti saranno approvati al Parlamento. Nel frattempo, non appena potremo all'interno della maggioranza avere questo confronto e completare questo passaggio sul documento di aggiornamento, ci confronteremo con tutte le parti sociali, associazioni di categoria, sindacati, regioni, enti locali, eccetera. Lo faremo anche con l'opposizione. Ieri il senatore Salvini mi ha inviato un messaggio, mi ha chiesto disponibilità al confronto, io gli ho risposto e gli ho detto che ovviamente come avevo anticipato già più volte in diverse occasioni, anche solennemente al Parlamento, il tavolo del confronto del Governo con l'opposizione resta sempre aperto e quindi gli ho detto che ci confronteremo anche con la Lega e le altre forze opposizioni che lo vorranno. Siamo disponibili, eccetera, quindi la collegialità c'è. Adesso c'è da capire meglio quali sono le stanze specifiche delle singole forze politiche. John Follain di Bloomberg, prego. Presidente, prego solo chiederle su Brexit. Quali sono le chance di superare le differenze tra le parti entro la fine del fine settimana? Mi fa una domanda davvero complicata, guardi. Questa domanda è complicata perché abbiamo avuto un aggiornamento da parte della Presidente von der Leyen, c'è stata una cena alla vigilia del Consiglio europeo con Boris Johnson e obiettivamente rimangono delle difficoltà, quindi si continuerà a lavorare, c'è la volontà di superare queste difficoltà, ma ci sono delle questioni di fondamentale importanza purtroppo, non sono minimali, perché se noi parliamo di Leyen, Plain Field, noi parliamo della possibilità di consentire a uno Stato che non farà più parte dell'Unione europea di godere dei vantaggi del mercato unico. Allora per godere di questi vantaggi bisogna soggettarsi alle regole del mercato unico e questo è il vero problema, parità di chance e di condizioni. Questo è un passaggio fondamentale, su questo l'Unione europea non può cedere, come non può cedere pure sui meccanismi di governance in caso in cui sorgano conflitti. Li dobbiamo risolvere subito, presto, non possiamo avere un accordo che lasci e si affida a dei meccanismi che non garantiscano piena funzionalità. Poi c'è anche il problema della pesca, particolarmente sentito da alcuni paesi, non tanto dall'Italia. Ecco, se non si sbloccano queste questioni purtroppo diventa tutto complicato, il tempo stringe, dobbiamo prepararci a una hard Brexit, non è quello che vogliamo, ma dobbiamo essere pronti e come Italia lo abbiamo fatto già da tempo, abbiamo predisposto tutto anche nel caso ci sia una via d'uscita che non sia negoziata. Le ultime due domande, Gabriele Martelloni, Rai News. Sì Presidente, mi riallaccio sulla questione del decreto natale. Se prevede che ci possa essere un'estensione provinciale per quanto riguarda le limitazioni degli spostamenti del giorno di Natale e Capodanno? E poi un'ultima domanda sul caso Reggeni. Dall'inchiesta italiana emergono elementi, direi, anghiaccianti, quattro egiziani, agenti verso il processo. Se l'Italia pensa di avere un atteggiamento particolare nei confronti dell'Egitto, magari richiamando l'ambasciatore, oppure si prevedono misure su questo? Grazie. Per quanto riguarda le misure, le ha cedete a quelle limitative della circolazione, soprattutto nel periodo di Natale, Santo Stefano e Capodanno. Come sapete noi abbiamo introdotto divieti di circolazione per quanto riguarda, limiti alla circolazione per quanto riguarda gli spostamenti tra regioni e poi per ottenere un effetto contenitivo e quindi limitativo della circolazione e degli spostamenti, soprattutto in questi tre giorni che ho menzionato, anzi in questi tre giorni abbiamo introdotto anche il divieto di spostarsi o comunque dei limiti per quanto riguarda gli spostamenti tra comuni. Questo crea un problema oggettivo, perché è chiaro che chi è in un grande comune, in una media città, grande città, e anche se mai è la fortuna di avere dei parenti, nonostante le raccomandazioni, attenzione, perché noi abbiamo comunque sul tavolo una forte raccomandazione di non creare occasioni di convivialità con persone che abitualmente non convivono nella stessa abitazione, però è chiaro che chi ha quantomeno i congiunti prossimi, i parenti più stretti, ha la possibilità di muoversi e di poter pranzare insieme. Gli altri invece, che semmai sono in paesini più piccoli e sono a poca distanza, possono avere delle difficoltà. Di qui c'è stata anche un'iniziativa parlamentare, c'è grande sensibilità parlamentare, non dobbiamo nasconderlo, anzi, noi stessi, questo lo vorrei dire a tutti gli italiani, noi non siamo contenti di introdurre misure. Quando abbiamo lavorato a questo piano, a questo piano di misure più restrittive, l'abbiamo pensato con obiettivo, non certo pensando a quelle che potevano limitare e opprimere di più la vita e le abitudini quotidiane, addirittura natalizie dei cittadini italiani. L'abbiamo fatto pensando però che nella situazione in cui siamo, con i numeri dei decessi che continuano ad essere abbastanza elevati e col fatto della prospettiva che possa arrivare, ce lo siamo detti anche qui al Consiglio europeo, con molti leader condividiamo il rischio che possa arrivare una terza ondata, quindi noi non possiamo consentire in quei giorni che ci siano occasioni di convivialità tra parenti, amici, conoscenti. Dobbiamo operare, dobbiamo mantenere queste restrizioni. Se poi il Parlamento però, assumendosene tutta la responsabilità, vuole introdurre qualche eccezione per i comuni più piccoli, che possa avere comunque una logica di mantenimento, consentire una circolazione in un raggio ovviamente chilometrico contenuto per comuni più piccoli, io personalmente l'ho detto, si è aperto una riflessione anche intorno al Governo, ci confronteremo anche con gli altri capi delegazioni del Governo, ritorneremo su questo punto, ovviamente il Parlamento è sovrano, perché noi abbiamo mandato in Parlamento un decreto legge, abbiamo cercato di mandarlo un po' in anticipo rispetto alle prossime festività, certo non c'è molto tempo, il Parlamento in ogni caso è sovrano. Quello che posso dire è, qualsiasi anche misura che possa costituire un'eccezione rispetto al piano predisposto, mi raccomando con grande cautela e attenzione, perché non può saltare poi l'impianto complessivo, perché far saltare l'impianto complessivo pensato con vari equilibri, quelle misure sono pensate in un complesso coacervo di meccanismi in qualche modo limitativi che hanno un equilibrio, se salta l'equilibrio poi rischiamo veramente di far scatenare una terza ondata di contagio, non ce lo possiamo permettere. Poi ancora mi chiedeva di Reggeni, per quanto riguarda Reggeni c'è un dato importante, un'informazione importante ce l'ha data la Procura di Roma, alla quale va il mio personale applauso e ringraziamento, hanno lavorato tantissimo, hanno dimostrato una capacità investigativa incredibile, da quello che abbiamo potuto apprendere, abbiamo degli elementi che denotano un quadro probatorio, indiziario probatorio, adesso non voglio entrare nel tecnico, che ha una certa solidità e comunque consentirà con tutte le verifiche e le garanzie del caso che il nostro ordinamento offre, di poter celebrare un processo, un processo italiano, interamente italiano, con le nostre regole, con le nostre garanzie, con la nostra capacità che esprime il sistema giudiziario per assicurare la verità, su una morte che anche dagli ultimi dettagli si è rivelata assolutamente avvenuta con modalità efferate e particolarmente cruente e crudeli. L'Italia, tutta l'Italia, il governo ha sempre chiesto questo e sta chiedendo da tempo e sta facendo di tutto per pervenire a questo, quindi è un momento importante, sarà un processo credibile, un processo di rilevo internazionale, potranno partecipare anche osservatori stranieri internazionali, vogliamo la verità e continueremo come governo a operare tutti quei passi necessari e funzionali per ottenere questa verità e valuteremo qualsiasi altra iniziativa che possa essere comunque, in questa logica, utile e comunque complementare rispetto a questo obiettivo, rispetto alla giustizia che dobbiamo a questo nostro ragazzo, ai suoi familiari. Ultima domanda, Repubblica, Tommaso Ciriaco, prego. Buonasera, buongiorno Presidente, salve. Buongiorno. Torno a parlare un attimo di recovery, visto che se ne discute molto anche a Roma, oltre che a Bruxelles, in particolare Matteo Salvini, leader di una delle forze di maggioranza, ha tracciato oggi un, ha accennato quantomeno un parallelo tra lei e Matteo Salvini sulla ricerca dei cosiddetti pieni poteri, ha evocato anche addirittura l'ipotesi di una crisi di governo. Ecco, volevo chiederle, tornando un po' su questo argomento, se lei teme effettivamente questo scenario di una crisi di governo e come considera l'ipotesi che il 2021 sia anche addirittura un anno di elezioni politiche? Guardi, per temperamento sono abituato a lavorare, ma non è che sono spocchioso, non è che sono arrogante. Ci sono, ho già detto, delle istanze critiche, sono state anche in modo, come dire, molto vocale, molto sonoro rappresentate in varie trasmissioni televisive, vari giornali, quindi sono molto impegnato, ma non è che mi, non cerco un attimo di essere aggiornato. Quindi ci confronteremo, è doveroso a questo punto confrontarci, lo possiamo fare nell'ambito delle rispettive responsabilità e dei ruoli, ci confronteremo con Italia Viva, ci confronteremo con le altre forze di maggioranza. Per andare avanti, l'ho detto anche in Parlamento, abbiamo bisogno di massima coesione, fiducia reciproca, massima determinazione, perché le sfide sono troppo complesse per poterle affrontare con modalità diverse. Aggiungiamo anche che abbiamo un G20, aggiungiamo anche che abbiamo una COP26 da organizzare insieme al Regno Unito, l'evento più importante in materia di clima, e i giovani ci chiedono questo, tutela della biodiversità, dell'ambiente. Abbiamo Global Health Summit, il 21 maggio, per la prima volta si organizza questo evento, è l'ambito del G20, sarà un evento importantissimo, perché da questo evento deve scaturire, ci saranno tanti, decidi e decidi, i leader mondiali verranno a Roma per confrontarsi in materia di salute, per trarre lezioni da questa pandemia. Saranno una lezione, una carta di Roma che si irradierà in tutto il mondo. Ecco, queste sfide non le si possono affrontare se non c'è da parte di tutte le forze di maggioranza, da parte di tutti i ministri, tutte le componenti di quello che è il sistema Italia, piena convinzione, piena determinazione e piena convergenza verso un medesimo obiettivo. Qual è l'obiettivo? Non può che essere il bene dell'Italia. Grazie. Grazie.